Noi siamo stati scossi da un incidente che è avvenuto il 24 gennaio, una ragazza di 15 anni si è buttata sulle rotaie, si è buttata e caduta, è successo qualcosa che ci ha fatto riflettere sull'importanza e sul valore della vita. Marida De Vita dell'associazione Fidati di Te spiega la spinta che l'ha portata ad organizzare Incontrarci, un'intera giornata in cui la cultura incontra il sociale per riflettere su un fenomeno preoccupante e crescente. Negli ultimi 4 anni il tasso di autolesionismo e tentativi di suicidio tra ragazze e ragazzi è salito del 30% in tutta Italia. L'incontro di oggi che proseguirà per tutta la giornata sicuramente è importante, poi però quando questi ragazzi tornano a casa, sono da soli, cosa bisogna fare? Allora intanto oggi ci sono io come coach relazionale e ci saranno due medici proprio perché vogliamo dare strumenti che i ragazzi, che le famiglie porteranno a casa. Quindi qui impareranno qualcosa, saranno tre laboratori concreti e quindi già avranno delle informazioni da portare a casa, qualcosa che ripetendolo possono utilizzare per migliorare sia il rapporto d'incontro e sia la gestione dell'ansia. Ma la nostra intenzione è quella anche grazie alle istituzioni che ci stanno appoggiando e sono molto contenta, soprattutto l'assessore alla cultura Maria Rita Carota, creare altri eventi e metterli davvero a disposizione di tutti e soprattutto dei ragazzi. Quando parlo di ragazzi però parlo anche delle famiglie che li supportano e che a volte loro per primi non hanno gli strumenti. Il progetto è stato condiviso dall'associazione Si può fare, dal centro antiviolenza Inside e dalle fondazioni Anfas di Pescara e Chieti. Ascoltiamo le due presidenti, Maria Pia Di Sabatino ed Erika Toto. Io sono stata invitata dall'associazione come è stata invitata anche la nostra presidente di Chieti per fare una mostra dei lavori e delle attività che fanno i nostri ragazzi per dimostrare che la disabilità non è un peso ma è anche un valore aggiunto. Noi come Anfas lavoriamo per i progetti di vita per migliorare la qualità della vita delle nostre persone con disabilità. Il progetto è tarato a 360 gradi sulla persona quindi noi portiamo avanti il discorso che i ragazzi devono migliorarsi, fare le attività che gli piacciono, lavorare, essere gioiosi, vivere una vita serena e tranquilla il più possibile. Ci adoperiamo per questo perché l'Anfas è un'unica famiglia di tutte le famiglie. Erika Toto, Anfas e Chieti, voi che vivete anche quotidianamente con ragazzi che hanno comunque dei problemi, come fate a farli risuperare? Qual è la vostra ricetta? La ricetta innanzitutto è farli sentire in una grande famiglia, quella è la prima cosa. Poi noi lavoriamo con i nostri collaboratori, con i nostri assistenti sociali, con progetti individuali in base alle peculiarità dei ragazzi, anche se comunque facciamo anche laboratori collettivi, di movimento, di teatro, di laboratorio, di uscite inclusive, di autonomia, anche lavoriamo sull'autonomia. Nella mia associazione c'è anche l'H24, quindi i ragazzi si gestiscono nel fare la spesa, nel cucinare insieme sempre ai collaboratori, sempre per un discorso di qualità di vita e di vita di qualità. E qual è invece magari la difficoltà più grande che dovete superare con questi ragazzi? Le difficoltà più grandi sono quello che troviamo all'esterno, perché spesso ancora troviamo situazioni di discriminazione o l'affrontare strutture senza barriere architettoniche, quindi è difficile spesso vivere ed essere inclusivi con gli altri per questi problemi. E' intervenuto anche Antonio Lera, medico neuropsichiatra, che ha parlato del percorso che passa dalla dimensione dell'io alla dimensione del noi. Quindi accettare tutte le diversità? Assolutamente, tutte le diversità, a partire da quelle di genere, per tutte le situazioni di difficoltà sociale, in cui magari ci sono delle disabilità o mancate abilità, diciamo, io direi abilità meno espresse e magari forse da, come dire, recuperare attraverso una lettura diversa. Chiusura con l'assessore alla cultura, Maria Rita Carota. Cultura, arte, musica, cibo fondamentale per la mente e per l'animo. Certo, tutto contribuisce a far stare meglio le persone. Tutti gli individui hanno bisogno di una loro capacità di riprendersi il proprio ruolo all'interno della propria famiglia, della società. E quindi benvengano tutte le occasioni in cui questo può avvenire e sono sicura che avverrà anche oggi con successo.